In questa sezione cercheremo di ottenere una migliore comprensione della teologia agnostica, e anche osservare in prima persona come il cristianesimo fu assimilato allo schema agnostico. Per portare a termine questo compito, sarà prestata particolare attenzione al Vangelo di Tommaso e il Vangelo della Verità, quest'ultimo attribuito al famoso insegnante agnostico Valentino. Come accennato in precedenza, i nomi erano un tema centrale negli insegnamenti agnostici. Tutto può essere spiegato dal loro aiuto. L'esistenza di Dio, il Padre, stesso può essere spiegato dall'uso di questo nome teologico. Perché? Ha dato un nome a se stesso poiché si vede. Lui solo che ha il potere di darsi un nome, perché chi non esiste non ha nome. Così il solo il Padre, avendo conoscenza di se stesso, è autoesistente e attraverso le sue enunciazioni, che possono anche essere intese come i suoi eoni, entrava nel tutto. Tuttavia, noi come esseri umani abbiamo perso la conoscenza del Padre. Quindi l'Il Padre ci ha inviato la parola del pleroma e attraverso di Lui, noi ancora una volta abbiamo acquisito la conoscenza del Padre e quindi la nostra deficienza, o mancanza di conoscenza, non esiste più. Quanto a coloro che non conoscono il Padre. Chi è ignorante fino alla fine è una creatura dell'oblio, e svanirà con esso. In caso contrario, è che questi miserabili non hanno nome. Com'è che, non hanno la chiamata. Perciò se uno ha conoscenza, Lui è dall'alto. Se viene chiamato, ascolta, risponde e Lui si rivolge a colui che lo chiama e a Lui ascende. In questo modo il Vangelo della Verità parla della salvezza. In un certo senso, quest'ultima affermazione non sarebbe troppo fuori luogo in un manicheo, agostiniano, in cui la predestinazione gioca un ruolo così cruciale. Là è prima una chiamata di Dio. Poi la persona, ascolta, risponde, e poi accento si rivolge a colui che lo chiama. Il tema della predestinazione, che può anche trovarsi tra i filosofi stoici del tempo, si rende ancora più manifesto nella rivelazione che il Padre è colui che ha, assegnato, il pleroma e i loro destini. Il Vangelo sostiene anche che coloro, che devono ricevere insegnamento, sono, i vivi e sono iscritti nel Libro dei Vivi. Il Vangelo della Verità offre anche alcuni spunti interessanti sulle diverse correnti di pensiero del tempo. A un certo punto si sostiene che il, nome del Padre e il Figlio, procede a dare una teologia del Padre e del Figlio molto simile a quella dei monarchi, che era la Chiesa cristiana combattuta allo stesso tempo, II e III secolo. Tuttavia, dove sta la «verità», intesa come il «figlio», il Vangelo offre anche una visione semi-trinitaria, affermando che «tutti amano la verità perché la verità è bocca del Padre. La sua lingua è lo Spirito Santo. Colui che è unito alla verità è giunto alla bocca del Padre con la sua lingua, ogni volta che deve ricevere il Santo Spirito». È evidente che il Vangelo non ha «teologia sintetica» per quanto riguarda le figure del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. A un certo punto sostiene che il Figlio e lo Spirito sono semplici eoni, in un altro che il Figlio e il Padre sono uno e lo stesso, e a un altro ancora mantiene un approccio trinitario all'intero soggetto. Prima di passare al Vangelo di Tommaso, vorremmo dedicare un po' di tempo sul trattato sulla risurrezione, che è un grande esempio di come l'ognosticismo sia in realtà un conglomerato di gruppi tenuti insieme solo dall'aspetto platonico della loro teologia, e sono differenziati su quanto e quali aspetti sono assimilabili al cristianesimo. Conserva ancora una forte predestinazione. Pertanto, poiché lo siamo, siamo eletti alla salvezza e alla redenzione e predestinati fin dall'inizio a non cadere nella stoltezza di chi è privo di conoscenza. Ciò che distingue questo trattato, tuttavia, è il suo concetto di carne. Come la buona prosa agnostica, sostiene che uno, ha ricevuto carne quando, egli, è entrato in questo mondo, ma afferma anche che la carne accompagnerà la persona nell'aldilà. Perché non riceverai carne quando ascenderai negli eoni? Ciò che è meglio della carne, è che poiché essa è, la causa della vita, quella che è nata per causa tua. È essa e non tua? Ciò che è tuo non esiste con te. Questa idea dell'unità della carne e dello spirito è quella che la maggior parte dei gruppi gnostici non aderisce. La carne, essendo materia, è generalmente vista come un male e un ostacolo allo spirito negli occhi gnostici. Questo, tuttavia, è in diretta contraddizione con la dottrina cristiana. Santireneo stesso, nella sua prova di insegnamento apostolico dà uno dei resoconti più leggibili dell'unità della carne e del corpo, e lo fa per contrastare con lo scopo di confutare la sola posizione gnostica che mantiene la loro separazione. Questa rottura dalla posizione gnostica ortodossa come si vede nel trattato, ci dimostra quanto gli insegnamenti gnostici e cristiani si mescolarono. Forse il resoconto più importante, e sicuramente il più famoso, dimostra le peculiarità della teologia gnostica e il Vangelo di Tommaso. Esso è diviso in 114 versi, in realtà sono meglio descritti come piccoli capitoli, ciascuno composto da poche righe, che sono disposti in qualche modo a casaccio. Nei versetti 2 a 4 il tema principale è che nulla sarà coperto e tutto sarà rivelato. E cosa si rivela? Bene, è il segreto conoscenza che Gesù disse a Tommaso, e solo a Tommaso. In questo Vangelo vi è un gran numero di versetti che si trovano nei quattro Vangeli canonici. Quasi parola per parola, versetti 8, 9, 20, 26, 34, 35, 41, 44, 54, 73, 86, 94, 96. Anche un secondo gruppo di versetti sembra avere origine nei quattro Vangeli. Ma sono in realtà un resoconto riassunto di ciò che è nelle scritture canoniche. Il versetto 63 ne è un ottimo esempio in cui Tommaso prende due frasi da mettere in relazione da ciò che ha preso Luca in cinque versi. Anche il Vangelo sembra avere dei versetti che sono stati innocentemente falsificati, in quanto i cambiamenti in essi non cambiano davvero il senso di ogni dottrina teologica. Un buon esempio di questo è il versetto 47 in cui Gesù sta parlando di come non si possono servire due padroni. Questo verso inizia con l'osservazione illustrativa che, una persona non può montare due cavalli o piegare due archi. L'autenticità di questa frase, in quanto quella di Cristo, è respinta dal studiosi del Jesus Seminar, ma tuttavia non cambia proprio il significato del versetto in un modo o nell'altro. Aggiunge solo un'illustrazione, il che rende l'insegnamento più reale alla mente di un lettore. Altra varietà di versetti iniziano come nei Vangeli canonici, ma terminano in un modo sorprendente. Il versetto 107, vedi anche il versetto 100, è un tale versetto. Raffigura la storia del pastore che lasciò le 99 pecore e andò a cercare quella perduta. Quando la trovò, disse alle pecore, l'amo più delle 99. Vorremmo anche menzionare i versetti 30 e 31 che sono alquanto imbarazzanti a seguito della precedenza data dall'enigmatico, o interessante, versetto 7, fortunato è il leone che l'uomo mangerà, così che il leone diventi umano. Estolto è l'uomo che il leone mangerà, e il leone lo mangerà e ancora diventerà umano. Ora, diamo un'occhiata a ciò che rende gnostico il Vangelo di Tommaso. Già in versi. Quando sarai nella luce, cosa farai? Il giorno in cui eri uno, sei diventato due. Ma quando diventerete due, cosa farete? Otteniamo il nostro primo saldo legame con il platonismo. Questa idea, che in realtà siamo la metà dell'essere completo che eravamo una volta, questo è esplicitamente affermato nel simposio di Platone nel discorso di Aristofane. Un altro forte indicatore del pensiero gnostico, platonico si trova nella dottrina della preesistenza delle anime che è evidente in versetti 49 e 50. Di nuovo, questa dottrina, che era una delle ragioni per cui il grande origine fu ostracizzato, si adatta perfettamente allo schema gnostico, in cui esistevamo all'inizio con il padre, sono esiliati nella carne, e mirano a tornare a lui, la nostra origine, ancora una volta. Questo Vangelo è peculiare anche nelle sue posizioni. Nel versetto 27, in cui ai lettori è comandato di osservare il sabato e il versetto 53 che chiama la circoncisione senza importanza. Sembra essere d'accordo con la posizione di San Paolo in merito alla circoncisione, ma conserva l'impronta giudaica del versetto 27 che ne era il segno, e quindi contraddice davvero il cristiano universalmente ritenuto ideale di celebrare la domenica come un nuovo e vero sabato. Infine, non possiamo parlare del Vangelo di Tommaso senza menzionare il versetto 114. Simon Pietro disse loro. Fate che Maria ci lasci, poiché le donne meritano la vita. Gesù disse. Ecco. Io la guiderò in modo da farla maschio. Affinché anche lei diventi uno spirito che somiglia a voi maschi. Poiché ogni donna che farà lei stessa maschio entrerà nel regno dei cieli. Probabilmente non ci vuole un genio per vedere che questo non è esattamente il messaggio dato nei Vangeli canonici. Quello che ci dà è uno sguardo alla mentalità di alcuni ignostici verso le donne. Questo è stato solo un breve sguardo al labirinto dell'ognosticismo. Il conflitto tra esso e il cristianesimo durò fino al IV e V secolo, forse anche dopo. Durante questo periodo di tempo gli ignostici sperimentarono una rinascita, soprattutto nel II-III secolo, seguito da un graduale calo di popolarità, e furono perseguitati quando il cristianesimo si insediò. Quanto alla Chiesa cristiana, ha guadagnato molto dagli ignostici, in quanto l'hanno costretta a difendere sistematicamente le sue dottrine, e nel processo, anche per definire i primi canoni del Nuovo Testamento. Sia per i primi cristiani che per gli ignostici il platonismo ha giocato un ruolo importante. Questo può essere visto attraverso l'influenza dei due uomini più influenti del periodo, Plotino e Origene. Entrambi erano contemporanei e studenti dello stesso maestro, Ammonio Sacca, e sotto di loro c'era lo stabilito neoplatonismo. Tuttavia, per i cristiani, la filosofia era un modo per descrivere le loro credenze, e non viceversa come nel caso degli ignostici. A volte le linee sembravano oscure, ma molto più spesso le linee di contesa erano chiaramente disegnate.